Dal vivo, live. Non proprio, ma lo ritorniamo insieme, fuori la voce, tanto, ripeto, non ci sono le premiazioni del canterino, vogliamo? Sì. Spirito di Dio ai nostri cuori, Spirito di Dio ai morti, fuoco di verità, brucia i nostri cuori, vento di libertà, soffia dentro, fuoco di verità, brucia i nostri cuori, vento di libertà. Potervi soffiety in sangue, fio la voce, voce di consiglio, Spirito di Dio, forza che sostenga, Spirito di Dio sia la nostra grona. Sì, sì.